riapertura in zona gialla anche a pesaro i cinema riaccolgono il pubblico covid 86 nuovi casi nella provincia pesarese ripartono domani vaccini all'ex ristro street food ed eventi culturali iniziative progetti per il porto presentata dal vice governatore carloni la proposta di legge per la promozione dell'artigianato marchigiano una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale in apertura continuiamo a parlare delle riaperture partite questa settimana grazie al ritorno delle marche in zona gialla da oggi anche pesaro i cinema riapriranno le loro sale al pubblico ve lo raccontiamo in questo primo servizio posti contingentati sanificazione delle sale spettacoli anticipati per evitare il coprifuoco per il pubblico misurazione della temperatura all'ingresso e mascherina sul volto durante la proiezione del film con il rientro delle marche in zona gialla e l'adozione di diverse misure di sicurezza anche i cinema tornano ad aprire ad inaugurare la ripartenza in città ci sono le sale del solaris e del cinema loreto che per la riapertura hanno pensato a proiezioni gratuite e a sorpresa noi siamo un gruppo facciamo parte di acic associazione cattolica esercenti cinematografici quindi riusciamo ad aprire perché siamo un servizio per la comunità quindi non è un ente profit ma è un ente non profit per cui riusciamo ad aprire in zona gialla con i posti uno sì e uno no contingentati però è una speranza vogliamo riaprire perché noi siamo appassionati di cinema di cinema impegnato per cui vogliamo riaprire con la speranza che questa sia la fine di questa di questa pandemia la voglia di tornare al cinema fa fa sì che faremo mercoledì una giornata noi giovedì loretto con due film diversi quindi dalla possibilità a tutti di accedere nuovamente al cinema e sarà un emozione perché noi personalmente abbiamo pianto riaccendendo le mani le macchine mentre da giovedì iniziamo noi con minardi manc lezioni di persiano che comunque sono cinema de sé candidati agli oscar i primi due e alla berlinata il secondo comunque rimaniamo sulle nostre linee di film impegnato chiaramente il bar sarà chiuso quindi chiediamo la pazienza di non di non accedere per niente a chiederci acqua o quant'altro perché comunque rispettiamo le normative e alle 10 tutte a casa perché iniziando alle 7 alle 10 riusciamo a essere a casa offriamo nel primo giorno di riapertura una serata gratuita proprio per invogliare e incentivare la gente a tornare insomma a usufruire delle delle sale cinematografiche apriremo il 29 giovedì 29 spettacolo unico le 19 logicamente per questione di orari seguirà poi giorni a seguire con nomadland quindi film vincitori degli oscar stiamo cavalcando insomma questa l'onda dei film vincitori domenica scorsa di tutta una serie di premi gli orari sempre alle 19 con i festivi prefestivi aggiungeremo anche lo spettacolo delle 16 30 questa è la seconda volta che ripartiamo ricordiamo che noi già dopo la chiusura del 30 marzo del 2020 abbiamo timidamente provato a riaprire a settembre del 2020 durato circa un mese 20 giorni poi siamo tornati con le condizioni di chiusura ancora ferme invece le sale giometti che in attesa di novità sulla distribuzione di nuovi titoli contano più di 100 dipendenti in cassa integrazione stiamo aspettando la presentazione da parte dei distributori di questi film e l'idea che avranno loro anche perché aspettano anche loro naturalmente per far uscire un prodotto importante che ci siano molti cinema aperti finché la situazione non è diciamo uniforme in tutta italia sarà dura avere un prodotto una produzione e una distribuzione lungimirante diciamo perché sarebbe mortale riaprire per poi richiudere le tappe sono quelle speriamo di aprire se non a fine maggio magari estate più avanti a giugno adesso vedremo proprio la prossima settimana la presentazione dei listini per poi dopo essere pronti operativi al massimo insomma per la fine dell'estate novità importante per il gruppo giometti è invece la riapertura dopo il termine di contratto con ucci della multisara la torraccia questo è la novità di quest'anno anche dell'anno scorso che purtroppo l'abbiamo ripresa in capo ma chiusa ci stiamo stiamo lavorando per delle invece delle novità a livello distributivo delle poltrone quindi delle poltrone un po più distanziate da loro tra loro però non voglio svelare troppo perché sono sorprese che vorremmo dare al pubblico quando torna e un sistema anche di igienizzazione sanificazione delle sale molto evoluto la pagina degli aggiornamenti sanitari per l'emergenza covid sul territorio regionale il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 172 tamponi 2636 nel percorso nuove diagnosi di cui 695 nello screening con percorso antigenico e 2136 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari all'11,4 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 301 86 i casi in provincia di pesaro rubino calano ancora le presenze all'interno dell'ospedale pesarese con quattro ricoveri in meno nel reparto di semi intensiva mentre i decessi notificati ieri sera sono stati cinque a livello regionale due vittime erano residenti nella provincia pesarese e riaprirà domani e quindi con un giorno di anticipo rispetto a quanto precedentemente annunciato il punto vaccinale di pesaro allestito all'interno dei locali dell'ex risto le circa 800 inoculazioni in programma per domani saranno destinate unicamente ai caregivers e agli accompagnatori dei pazienti fragili mentre a partire da venerdì l'agenda del centro tornerà ad occuparsi della somministrazione dei richiami e di alcune prime dosi rimaniamo a pesaro e parliamo ora della zona portuale più precisamente di calata caio duilio perché l'amministrazione comunale sta per pubblicare un bando con l'obiettivo di valorizzare l'intera area street food e piccoli eventi culturali saranno il cuore delle iniziative in programma ve lo raccontiamo in questo servizio odori sapori e gusti del cibo di strada lungo la calata caio duilio lo street food al porto di pesaro è una delle iniziative pensate dall'amministrazione comunale pesarese per valorizzare l'area portuale nella stagione estiva e per incentivare la frequentazione di cittadini e turisti il progetto sperimentale per la valorizzazione della zona prevede anche l'organizzazione di piccoli eventi culturali l'ufficio attività economiche lancerà a breve nei prossimi giorni il bando dove una verrà rilasciata una concessione per un food truck si è pensato a questa area per riqualificare la zona per pensare anche al fatto che al mattino ci sono i pescatori e potrebbe essere anche tutto un discorso di commercio a chilometro zero e deve essere un'area che pensi anche alla cultura la creatività e crei l'atmosfera gli orari saranno dalle ore 16 alle ore 22 perché ad oggi il dpcm dice questo è fondamentale che ci sia l'ordine in quest'area in caso il dpcm a giugno dia la possibilità di allungare le le serate il massimo che potrà dare il servizio a quest'area sarà fino alle ore 11 come dicevo si è pensato anche a creare dei piccoli eventi che vadano nella direzione di musica poesia lettura di libri quindi sarà un'opportunità sia per chi in questi mesi non ha potuto fare fiere o comunque no a svolgere l'attività come negli altri anni ma sarà anche un'opportunità per tutti i pesaresi e anche per i turisti del territorio nel frattempo in questi ultimi giorni sono aumentate le domande giunte agli uffici comunali da parte delle attività locali per richiedere l'occupazione di suolo pubblico le domande sono circa da due settimane che arrivano e poi in questi ultimi giorni sono aumentate e posso dire che è fondamentale a tutte le attività colgo l'occasione visto che ho l'opportunità di dire che la domanda va fatta deve essere fatta all'ufficio attività economiche c'è un modulo da compilare molto semplice e allegando una fotografia tutto questo è importante per la propria tutela dell'attività che richiede il suolo ma anche per i pedoni i disabili e la sicurezza stradale lo scorso anno sono state fatte 150 richieste e attendiamo anche tutto il mese di maggio che arrivino come lo scorso anno le richieste è fondamentale mantenere le regole del covid ma anche mantenere il rispetto per gli abitanti che abitano sono vicini ma nello stesso tempo chiediamo anche alle persone di essere di capire l'esigenza delle attività che hanno sofferto in questi mesi con il dpcm queste attività devono per forza per fare servizio al tavolo avere i tavoli fuori ripeto dal primo di giugno la situazione dovrebbe cambiare o comunque diminuire le attività che hanno in esterno tariffe delatari del servizio idrico sono stati gli argomenti al centro dell'incontro che confcommercio e associazioni ristoratori hanno avuto con il presidente della provincia di pesaro urbino giuseppe paolini la confcommercio sollecita ormai da anni una revisione di tariffe e calcolo dei costi che non hanno subito riduzioni anche durante il periodo della pandemia il presidente paolini ha preso l'impegno di portare i temi in assemblea ato e ata simone mattioli è stato confermato alla presidenza della pesaro rugby si sono tenute sabato le elezioni del nuovo consiglio direttivo e della presidenza della società giallorossa l'assemblea dei soci ha letto all'unanimità i 12 nuovi consiglieri per il quadriennio 2021 2025 che a loro volta hanno riconfermato mattioli alla guida del club ed è stata presentata questa mattina dal vice presidente della regione e assessore all'artigianato mirco carloni la proposta di legge per la promozione dell'artigianato marchigiano che la giunta regionale ha trasmesso all'assemblea legislativa per l'adozione la misura fa parte di un pacchetto organico per il rilancio dell'economia regionale e di sostegno all'impresa il testo composto da 30 articoli rivisita la normativa regionale del 2003 delineando nuovi scenari di sviluppo per un comparto economico forte di 43 mila imprese la presentazione del nuovo provvedimento arriva all'indomani dell'approvazione del consiglio regionale alla legge sulle start up innovative e ora cambiamo argomento perché la farmacia di villa cecolini a pesaro ha raggiunto i due anni di attività per festeggiare questo traguardo la farmacia ha deciso di donare alla cittadinanza e a tutti i ciclisti che transitano nel quartiere una stazione per la manutenzione delle bici vediamo le interviste realizzate questa mattina da Antonio Stuti sono due anni che siamo entrati a far parte della comunità di villa cecolini siamo state accolte subito molto bene questo ci ha fatto molto piacere e ecco soprattutto adesso in questo periodo in cui c'è questa emergenza sanitaria siamo presenti siamo vicini alla popolazione in modo da fare sì che questo presidio sanitario socio sanitario sia sempre presente cosa consiste questa stazione di servizio per biciclette allora consiste ecco in una colonnina di manutenzione per la bicicletta c'è questo gancio dove è possibile appendere la bicicletta e poi ci sono degli attrezzi quindi dei cacciaviti delle chiavi delle brugole che servono per fare le prime riparazioni diciamo le riparazioni più più importanti che può capitare di fare magari quando capita un piccolo incidente in strada e poi c'è anche la pompa di gonfiaggio della della bicicletta quindi questa può essere utilizzata sia dal cittadino che magari tranquillamente va in bicicletta per il paese gli capita un inconveniente oppure anche dai ciclisti che sono frequentano molto questa zona in quanto ecco abbiamo queste colline qui intorno che sono molto belle volevo ringraziare la farmacia per lo splendido dono che ha fatto alla città questi sono piccoli segnali ma molto importanti nella città della bicicletta la città che ha 90 km di ciclabile che ha l'ambizione da qui a breve di arrivare a 100 e il collegamento con villa fastigi villa ceccolini e poi magari arrivare anche a borgo santa maria è uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale abbiamo portato in consiglio già lunedì scorso il tratto di collegamento tra lì per rossini e il lago pensierini diciamo che è lungo il fiume lungo l'argine del fiume nella zona di villa fastigi e vorremmo proseguire su quel percorso lì e nel frattempo si stanno valutando anche progettazioni alternative rispetto al collegamento ciclabile città periferia e non è non è semplicissimo perché la strada di collegamento insomma quella del carcere per capirci è una strada abbastanza stretta quindi dovremmo pensare a soluzioni alternative anche a ridosso della montella battese stiamo facendo lo studio in in questo senso qua innanzitutto faccio i complimenti ai titolari della farmacia di aver deciso di regalare quindi mette a disposizione di tutta la comunità questa 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 piccola stazione che consente di fare la mautazione della propria bicicletta noi a livello regionale ma anche a livello comunale devo dire che stiamo facendo progetti per consentire di allargare quello che il progetto bicipoletana io mi auguro che questo possa anche essere un esempio ripreso un po da anche da altre attività perché l'obiettivo sarebbe bello riuscire ad avere una serie di bici stazioni come queste diffuse in tutto il territorio comunale ma devo dire anche in tutto il territorio regionale quindi mi auguro che questo sia l'inizio di un percorso che questi privati oggi donano alla città ma che possono essere presi ad esempio anche da altri e questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale subito tra poco alle 20 in diretta potrete seguire un nuovo appuntamento sportivo su rossini tv che vedrà protagonista little service calcio a 5 pesaro in sfida contro l'acqua e sapone in diretta quindi a partire dalle 20 su rossini tv e poi l'informazione torna puntuale domani mattina in diretta alle 7 20 con una nuova edizione della nostra rassegna stampa grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su rossini tv